Sì, io vorrei esprimere solidarietà al Presidente Mattarella che in queste ore sta subendo delle pressioni che non si erano mai viste da parte dei partiti, quindi pressioni partidocratiche nei suoi confronti e penso che questa situazione sia molto preoccupante perché andare a intaccare le prerogative del Capo dello Stato significa andare a minare la nostra Costituzione. Quindi per questo mi sento di esprimere solidarietà e se questo governo Conte nascerà motivo in più per fare un'opposizione forte, un'opposizione che non faccia sconti proprio perché mi pare di vedere che il debutto, questa fase che anticipa i lavori, non sia una fase molto edificante. Grazie a tutti.